Il picchio. Ti serviranno del filo, delle ricariche e del cartoncino e una ruota. Prima di tutto avvolgi il filo sulla ricarica per formare una piccola spirale. Rimuovi la spirale dalla ricarica e taglia nell'estremità. Incolla il lungo braccio della spirale al picchio colorato con la colla. Ora posiziona la spirale nella ruota. Quando si metterà la ruota in posizione verticale il picchio cadrà in piccoli salti come se stesse picchiettando il tronco. Costruisci poi un modellino di albero e divertiti a guardare il picchio picchiettare il tronco. Grazie. 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 Grazie.